Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Abbiamo appena finito la conferenza dei sindaci del litorale, abbiamo stabilito di fare in sinergia con Regione Veneto e con i consorzi di promozione turistica un progetto di promozione sulla Germania, TV e stampa, di fare un progetto importante di una relazione socio-economica per capire quali sono le strategie da attivare dopo il Covid. I sindaci vogliono essere pronti, vogliono dare risposte ai loro territori, vogliono dare risposte alle imprese, ai lavoratori e questi sono temi per noi fondamentali. Abbiamo ovviamente ipotizzato una serie di azioni su queste linee strategiche, continuando a lavorare anche per il contratto di costa, per un'azione più importante che va in là nel tempo e ovviamente anche basandoci sulle proloco e sul marketing strategico dei nostri territori. Abbiamo avuto il piacere che anche Venezia attraverso la sessione Twin abbia partecipato alla nostra conferenza, quindi l'auspicio che Venezia sia un partner importante nella conferenza dei sindaci del litorale. Gianluca Falcomare, sindaco di Cinto Comaggiore. Dopo tante cose parliamo di politica, senza che nessuno sia rabbi. Ho sintetizzato siamo in saldi di fine stagione. I prossimi cinque anni dalla regione, dalla città metropolitana, dai comuni più grossi a anche qualche comune più piccolo, ci sarà il cambiamento politico di rappresentanza di queste istituzioni. Ecco, qui c'è bisogno però di un ricambio e questo ricambio deve essere fatto da persone preparate per poi non ripiangere chi c'era prima. Ecco, il suo pensiero, lei è un giovane sindaco e a secondo mandato anche lei. Sarà un saldo di fine stagione, però lei è giovane e ha anche una strada molto lunga, volendo, se si vuole impegnare. Ecco, ma volevo capire proprio cosa succederà. Allora, è naturale che ci siano delle stagioni che iniziano, delle stagioni che terminano. Ed è lì che credo sia... Perché lo dico? Perché se guardiamo come stanno andando un po' i rinnovi dei consigli comunali, i rinnovi dei comuni capoluogo, i rinnovi regionali, beh, ci sono tutta una serie di figure che da qua ai prossimi cinque anni non ci saranno più perché non possono candidarsi per legge. Quindi io credo che il termine più lungo attualmente sia quello del Comune di Venezia, quello del sindaco Brugnaro che essendo al secondo mandato un po' va a chiudere tutta una, fra cinque anni, fra tutta una stagione, diciamo, una stagione politica. Allo stesso Presidente della Regione e al suo ultimo mandato, salvo che non vengano fatte delle modifiche statutive, ma credo che sostanzialmente si vada verso la chiusura di un'epoca. Ecco, credo che la maturità, più che per la singola prospettiva del singolo amministratore di cosa vorrà fare da grande o da più o meno grande o da anziano, sia quella di capire come fare in modo che il proprio progetto continui nel territorio. Perché se un amministratore non è in grado, perché è troppo ingombrante, perché non per forza troppo bravo, ma perché è troppo presente, troppo fagocitante, come il padre di Zeus che si mangiava i figli man mano che crescevano. Ecco, se un amministratore fa questo errore, dopo di lui ci sarà solo il diluvio. E questo non è positivo per la popolazione, per le comunità. Serve sempre che il progetto venga portato avanti. L'invito che faccio a me stesso e che quindi posso tranquillamente rivolgere anche i miei colleghi o chiunque aspiri a svolgere attività politica e che non ci si concentri tanto sulla propria carriera, sulla propria persona. Bisogna concentrarsi sui propri progetti, coltivare quelli, perché bisogna trasmettere il senso del progetto politico che va portato avanti. Se ha senso portarlo avanti, perché in tal senso poi si troveranno delle brave persone che porteranno avanti questi progetti. Io non credo negli unti dei sindaci che dovranno essere loro successori. È la popolazione, la comunità che vota il sindaco e vota in base a un progetto. Quindi sta all'amministrazione coltivare i progetti perché possono essere portati avanti da persone preparate. Dove non c'è un progetto non ci sono politici. Abbraccio fatale per due coppie fermate dai carabinieri dopo il furto di una colonnina a un pensionato di Fossalta di Porto Ruaro e poi fuggite a Lignano. Imanette tre giovani rumeni, mentre la compagna di uno di loro, maggiorenne, nei prossimi giorni è incinta, è stata denunciata. Tutto è iniziato ancora ieri mattina in centro a Fossalta, dove era in corso il mercato settimanale, vittima a un settantenne del posto che è stato avvicinato da una giovane donna che con un pretesto lo ha portato in un luogo più isolato, dietro alle mura perimetrali del comune di Fossalta. Ed è qui che la ragazza lo ha abbracciato con impeto, mettendogli le mani al collo per afferrare quella collana in oro che il pensionato indossava. Nonostante il tentativo dell'anziano di divincolarsi, la giovane è riuscita a strappare parte della collana, mettendosi poi in fuga. Immediate le ricerche dei carabinieri di Villanova di Fossalta, diretti dal maresciallo Simone Muccine, che con l'ausilio delle videocamere di sorveglianza del comune di Fossalta sono riusciti a scoprire l'auto con cui la ragazza si era allontanata in compagnia di un'altra giovane e di due uomini rimasti nella stessa autovettura. Con gli agenti della polizia locale del distretto Veneto-Est, diretto da William Cremasco, gli investigatori hanno seguito l'autovettura che nel frattempo era arrivata a Bibione e da lì si era diretta a Lignano. Fondamentale è la collaborazione tra il team di investigatori, composta dai carabinieri di Lignano, Villanova, Bibione e dalla polizia locale, che hanno intercettato l'auto fuggita nei pressi di un supermercato della località turistica friulana. Tutti sono stati bloccati e trasferiti nella stazione dell'arma. Purtroppo la collanina non è stata ritrovata e così il gruppetto di quattro è stato portato a Villanova di Fossalta, dove la vittima ha riconosciuto la ragazza che gli aveva rubato la preziosa collana. I tre maggiorenni sono stati portati in carcere, sottoposti al fermo di indiziato di delitto, mentre la ragazza minorenne è stata denunciata. Sonia Briscacin, consigliere regionale, presidente della Quinta Commissione Sanità della Regione Veneto. Siamo qui a Ponte di Piave, dove in questa palestra si stanno facendo i vaccini. Una delle tante sedi in Veneto, ma qual è il vero problema oggi per il Veneto? Sì, oggi è una giornata importante. Il complimento va al sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, anche presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulss 2 e Marca Trevigiana, l'apertura di questo centro vaccinale insieme con tutti i colleghi sindaci dell'Opitergino-Mottense. Quindi l'organizzazione ULSS è efficiente, efficace, la direzione sanitaria insieme alle proprie dirigenti accoglie al meglio tutte le persone che si vogliono vaccinare. Adesso il vero tema è che arrivino i vaccini e che tutte le otto sedi vaccinali della provincia di Treviso e la stessa cosa per le altre province abbiano la possibilità di vaccinare. Purtroppo in questo momento la struttura va a scartamento ridotto perché non ci sono vaccini e quindi devono limitare la capacità giornaliera di poter accogliere persone che hanno la voglia di vaccinarsi. Sembra che sia solo il Lazio che ha fatto meglio degli altri, ma in effetti siamo circa il 20% sia il Lazio che il Veneto, i primi in Italia. Per cui al di là di tutte le critiche, di tutte le difficoltà, siamo a un buon risultato? Allora, le critiche, gente che critica se ne trova per le strade tutti i giorni. La verità è che il Veneto sta vaccinando una quantità di persone ogni 10.000 abitanti superiore a tutte le altre regioni. Di questo va dato il grazie a tutti gli operatori che si sono organizzati al meglio e che riescono a velocizzare le attività di iniezione del vaccino. Una delle cose riscontrate, ma è vera fondamentalmente, ogni ULSA ha il suo modo di informare. Forse in questo momento, più che la mancanza di vaccini, che tutti hanno capito che arriveranno e se arrivano, se si vaccina, ma un'informazione proprio di far star tranquille le persone, specialmente dai 70 agli 80, che sono quelli più in fermento. Sì, ha ragione, è un messaggio di tranquillità perché comunque tutto è organizzato al meglio. Adesso c'è anche la piattaforma di prenotazione online e sicuramente si stanno ormai concludendo le vaccinazioni per gli over 80 e per le categorie fragili e la nostra regione sta andando in modo veloce a vaccinare le classi di età dai 70 ai 79 anni, per cui tutta questa popolazione nel giro di brevissimo tempo potrà avere la vaccinazione e questo fa per dire di approcciarsi con tranquillità a questo momento che sicuramente darà la risposta a chi lo desidera. Terza corsia dell'autostrada da Quarto D'Altino a Palmanova, 95 km, l'unico tratto dove ancora si transita due corsie, sono i 25 km da Sandonà a Porto Gruaro, spesso interessato da chiusure a causa di incidenti. Alcuni mortali, come l'ultimo di mercoledì 31 marzo, nel tamponamento tra un furgone o mezzo pesante tra Sandonà di Piave e Cessalto, sono due morti, due giovani e una persona che è rimasta gravemente ferita. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per alcune ore per consentire l'intervento dei soccorsi. Nel frattempo, dopo il traffico della A4 proveniente da Venezia e diretto a Trieste, è stato deviato sulla viabilità ordinaria con disagi per la circolazione locale e nei paesi attraversati per le interminabili colonne di auto e camion. Una scena che si ripete puntualmente, ogni qualvolta l'autostrada viene chiusa. Negli ultimi sette mesi, tra Sandonà di Piave e Porto Uruaro e viceversa, è successo altre sette volte. L'intervento in autostrada tra Sandonà e Porto Uruaro interviene Elisa De Berti, vicepresidente e assessore della Regione, e in programma con i lavori di messa in sicurezza dell'intera tratta. La Regione sta monitorando e collaborando con il commissario della Terza Corsia, prorogato di recente fino a dicembre 2022, in modo che le opere della Terza Corsia vengano realizzate nel più breve tempo possibile. Tutti i quattro lotti della Terza Corsia sono in fase di completamento, a parte il secondo, da Sandonà a Porto Uruaro, nel quale si sta provvedendo all'adeguamento dei 10 covalcavia, e l'attività propedeutica per procedere poi alla realizzazione della Terza Corsia. Pertanto i lavori stanno andando avanti e c'è l'attenzione della Regione. Per la vicepresidente De Berti, la costruzione della Terza Corsia ha avuto un allentamento a seguito della concessione di autovie scaduta ancora alla fine del 2017. Secondo la vicepresidente della Regione Veneto, con deleghe anche agli affari legali, lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, il progetto di riassegnazione della concessione autostradale ha visto impegnate le due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e il Ministero delle Infrastrutture, nei confronti della Unione Europea, per fare in modo che venga riassegnata in aus ancora ad autovie la concessione autostradale. Per le persone anziane o per le persone che hanno impossibilità di arricarsi ai centri vaccinali, si può scrivere all'azienda sanitaria chiedendo la vaccinazione presso la propria residenza. Potete farlo anche chiedendo informazioni presso il vostro medico di base. Le classi più giovani dal 1946, 1947, 1948 eccetera, anche qui ho ricevuto diverse richieste di chiarimento, non sanno bene come comportarsi per la prenotazione, stanno accedendo quindi al portale e non ricevono la prenotazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, e anche questo è stato chiarito dall'OSL, le dosi dei vaccini hanno un po' di difficoltà a arrivare in questo periodo, speriamo comunque che si sblocchi, stante anche la volontà del governo di andare veloci a portare quindi molte altre dosi sui territori. Quindi le iscrizioni nel portale per le vaccinazioni di queste classi, ripeto 46, 47, 48 eccetera, dovete avere un po' di pazienza e provare magari ogni tanto a vedere se riuscite ad inserirvi perché la programmazione vaccinale è un po' leggermente adesso, non dico più lenta, ma insomma è un po' frenata dal fatto non tanto che non c'è un'organizzazione buona della nostra AS4, anzi il contrario, ma dei vaccini che stanno arrivando con un po' di fatica. Ecco, la cosa sicuramente si sbloccherà e quindi poi potrete prenotarvi tranquillamente. Ecco, al Comune oggi non viene richiesto di fare le prenotazioni come per le classi 44 e 45, quindi noi come Comune in questo momento non stileremo delle liste da inoltrare poi all'azienda sanitaria perché appunto non ci è stato richiesto. Vedremo più avanti. Nella zona arancione, tornando un attimo alla Regione Veneto, c'è sempre il divieto di spostamento tra regioni, mi raccomando, tranne che per motivi di salute, stato di necessità o motivi di lavoro. Prenotazioni online per le vaccinazioni Covid in soccorso arriva il Comune. Da pochi giorni attivo il nuovo portale unico per la prenotazione e le vaccinazioni in tutte le aziende sanitarie della Regione Veneto. Il sito, raggiungibile all'indirizzo vaccinazionecovid.regioneveneto.it, permette di selezionare in modo semplice e immediato la propria sede di vaccinazione e il primo giorno disponibile per la prima vaccinazione. Purtroppo non tutti hanno dimestichezza in rete con computer, smartphone o tablet, soprattutto se si tratta di popolazione avanti con l'età. Da qui è arrivata la proposta dell'amministrazione comunale di Concordia Sagittaria che ha deciso di mettere a disposizione la biblioteca o la farmacia comunale. Per coloro che non sono muniti degli apparecchi tecnologici utili alla prenotazione è possibile infatti rivolgersi alla biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì, mercoledì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30 per avere supporto. In farmacia invece il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Il servizio è gratuito e basterà avere con sé la tessera sanitaria. I cittadini con disabilità o comunque in condizioni di vulnerabilità e che non riescono a prenotare dovranno fare riferimento al proprio medico di medicina generale. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!